Dici che è possibile che succeda di nuovo? La furia incontrollata da orso? Non lo so. Abbiamo compagnia, coprimi. Sono fatti di sporco, letteralmente, non toccherò... Chi ha detto che devi toccarli? Mi piace, come ragioni. Ok, o la va o la spacca! G-Alpha! Un artigianato di qualità! Mi servirebbe una mano! Ok, va bene. Io... Prendi questo, sporca fila di rocce. Ah, non toccarmi! Wow, Sindri! Parole dure! Non se ne prenderà più... Qualche seduto o no? Ok, ok! Orba Uta! Un momento! Ah! 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 Un momento! Schiafo! Grazie per aver sacrificato così tanti oggetti della tua borsa. Era chiaro che ti serviva aiuto. Oh ma figurati